Buongiorno e benvenuti da 7 in punto, questa mattina qui con Masha il direttore di Coldiretti Padova, Giovanni Roncalli, buongiorno e benvenuto. Parliamo di un momento difficile che sta vivendo l'agricoltura del Padovano, l'agricoltura veneta ma anche l'agricoltura nazionale perché indubbiamente stiamo vivendo un periodo di siccità che non è contingente al fatto che nell'ultimo mese non piova ma che si porta anche in eredità un inverno scarsamente piovoso, pochi accumuli di neve in montagna e quindi siete preoccupati, perché? Insomma ha ben sintetizzato un insieme di concause che sono assolutamente preoccupanti e che già stanno dimostrando tutti gli effetti negativi, precipitazioni scarsissime durante l'inverno, accumuli nevosi pressoché assente, invasi vuoti e soprattutto temperature che non si erano mai viste negli ultimi 50 anni. Tutto questo in qualche modo crea un mix di situazioni assolutamente esplosive che stanno mettendo a rischio l'agricoltura non solamente padovana ma direi l'agricoltura di tutto il paese, non solo l'agricoltura anche gli allevamenti perché insomma all'interno di questa situazione assolutamente abnorme anche gli allevamenti sono assolutamente in crisi. La disponibilità di risorse idriche è palese, le colture sono già in situazioni di stress idrico, credo che non sia solamente un auspicio quella della pioggia, serve in qualche modo affrontare questa problematica con degli interventi strutturali che possono e che devono andare oltre l'emergenza. Purtroppo però la storia ci insegna, la storia del nostro paese che si invocano da più parti gli interventi strutturali ma questi interventi strutturali non ci sono o sono pianificati parzialmente e dopo una catastrofe, pensiamo all'alluvione del 2010. Questi interventi strutturali significa pensare, organizzare dei depositi, dei magazzini idrici proprio per fronteggiare una situazione meteorologica che non è più costante e che cosa si dovrebbe fare? Perché al di là della mancanza di pioggia c'è anche una notevole dispersione dell'acqua, quindi piove poco, c'è poca acqua, quella che c'è non sappiamo captarla. Ma insomma diciamo che con interventi strutturali rientrano all'interno di questa definizione una serie di azioni che è necessario programmare per tempo. Il nostro paese è come dire votato, vocato al ricorso della situazione ex post. Noi dobbiamo saper gestire anche questa situazione di cambiamenti climatici che sono ormai conclamati con attenzione e con lungimiranza. Come arrivarci? Molti oramai decenni fa vennero realizzati nel nostro paese quelli che sono ancora oggi degli invasi, mi riferisco ai grandi interventi di opere idrauliche, di dighe, che hanno consentito e che consentono tuttora di poter soddisfare le esigenze idriche del nostro territorio, della nostra agricoltura. Quegli interventi sono ormai fermi a troppi anni fa, serve adesso strutturare e pensare a situazioni che in qualche modo possono consentirci di affrontare i prossimi anni con più tranquillità. Non mi riferisco solamente ai grandi invasi, ma anche ai piccoli invasi che possono essere realizzati sui nostri territori e che ancora oggi hanno comunque bisogno di una serie di autorizzazioni incredibili che bisogna guardare con occhi diversi tutti quanti. Ciò che ostacola la realizzazione dei grandi o piccoli invasi credo che si possa sintetizzare in due elementi fondamentali, il denaro, ma soprattutto noi abbiamo, soprattutto in Veneto, soprattutto anche nell'Alta Padovana, nel Padovano dove ci sono, le faceva riferimento agli allevamenti prima, c'è poco spazio e spesso si è costruito negli invasi, si sono costruite le case, i cosiddetti bacini di espansione che in teoria dovrebbero servire quando piove troppo per lo sfogo, evitando gli alluvioni, ma potrebbero essere anche dei magazzini idrici. C'è anche questo tipo di problema strutturalmente o sarebbe facile trovare queste vasche in mezzo alle culture? Perché poi, appunto, tra l'antropizzazione e gli spazi coltivati c'è spazio per gli invasi? Il problema non è quello degli spazi, il problema è effettivamente quello delle risorse e soprattutto di un'ottica di gestione di questi temi che non possono essere lasciati ai privati. Insomma, serve un intervento di carattere pubblico che ragioni in termini di interventi per la regimazione delle acque con un'ottica diversa. I siti in cui poter realizzare questi accumuli potrebbero essere molteplici. Certo, bisogna portarci l'acqua, bisogna in qualche modo strutturare tutta una rete idrica che non ne disperda, così come oggi in realtà la nostra rete sta disperdendo milioni di metri cubi per una cattiva gestione. Servono una serie di azioni che, come dicevo prima, facciano guardare a questo problema non come un problema episodico, come un problema del settore agricolo, ma in generale come un problema della collettività nel suo complesso. Perché la falda non è stata sufficientemente rifornita e questo significa non solo che non c'è acqua per l'agricoltura, per gli allevamenti, ma c'è il rischio che possa non esserci acqua per gli acquedotti e quindi che si arrivi ad una razionalizzazione, insomma a razionare l'acqua. È così, alcuni comuni hanno già adottato provvedimenti di razionamento dell'acqua, gli utilizzi sono assolutamente limitati agli usi civili e ovviamente agli usi agricoli, però è chiaro che se non piove, se non c'è irrigazione, se non c'è acqua in superficie, difficilmente ci potrà essere acqua in falda, per cui è un ciclo in qualche modo vizioso che poi riverbera anche sugli utilizzi civili. Per quello, dicevo poco fa, non è semplicemente un problema di carattere agricolo, è un problema della collettività e come tale va affrontato in maniera diversa rispetto a quanto fatto sinora. Come col diretti, come associazione di categoria, al di là di evidenziare le problematiche però proponete anche delle proposte, ci sono come fare per fronteggiare esposto, come si sulle dire, visto che siamo in periodo di siccità. Intanto credo che sia opportuno dire che l'agricoltura ha profondamente e radicalmente cambiato il proprio approccio all'acqua. Sono sempre di più le iniziative e le aziende agricole che in qualche modo hanno attuato situazioni virtuose per poter in qualche modo utilizzare sempre meglio la scarsa risorsa elica disponibile, si va verso un'ottimizzazione delle risorse e questo è assolutamente a favore di un'agricoltura che vuole relazionarsi anche in termini di risorse disponibili in maniera virtuosa. Certo, non è sufficiente lo sforzo dell'impresa agricola. Per virtuosismo, si cambiano le culture? Certo, si va verso culture che in qualche modo siano meno idroesigenti ma soprattutto si cerca di produrre lo stesso prodotto, le stesse culture evitando di non intervenire su ciò di cui non c'è bisogno, per cui sono irrigazioni a goccia piuttosto che irrigazioni localizzate, piuttosto che con ugelli che in qualche modo irrorano diversamente, insomma tutti piccoli accorgimenti tecnici che in qualche modo tendono a contenere l'utilizzo dell'acqua. Cambiare culture però, ci sono delle culture che fanno parte della nostra alimentazione, del nostro vivere, penso al mais che mi pare sia una delle coltivazioni più sofferenti, che ha bisogno, credo, di quantità idriche, non è che possiamo coltivare cactus e mangiare cactus. Questo è chiaro che no, insomma noi abbiamo un nostro sistema agroalimentare che è centrato su alcune delle nostre specificità produttive che è inimmaginabile in qualche modo cambiare, quantomeno in così breve tempo, però anche sul mais per esempio sono sempre più diffusi questi utilizzi di microirrigazioni o comunque di irrigazioni a goccia che contengono l'utilizzo dell'acqua. Certo c'è bisogno anche lì di tecniche particolari per cui tutte le condutture che in qualche modo portano l'irrigazione sulle piante vengono realizzate con prodotti che siano compatibili con il territorio e con l'ambiente, però si va a avere in quella direzione, sono sempre più diffuse questo tipo di sperimentazioni. Però come dicevo prima non è sufficiente che l'agricoltura impieghi, così come sta facendo, sempre meno acqua e si cambino le tecniche di coltivazione. Fino a qualche anno fa, fino a decenni fa, era diffusissima l'irrigazione per scorrimento, oggi questo tipo di irrigazione è pressoché... C'è quella a doccia, no? Vediamo. Vabbè, questa ovviamente ne consuma meno rispetto a quella a scorrimento, però intendo dire fino a qualche anno fa le imprese agricole utilizzavano sistemi assolutamente diversi rispetto a quelli utilizzati attualmente. Serve comunque un'azione collettiva, come tipo di intervento pubblico. Cioè una mappatura, un intervento, un'architettura generale in cui poi il singolo può intervenire e quindi deve cambiare lo schema. Noi abbiamo questi nostri consorsi di bonifica che già hanno adottato una serie di interventi anche loro per cercare di controllare e di gestire in maniera sempre più oculata le acque e questi consorsi sono riuniti in un consorzio nazionale. Consorzi che qualcuno li voleva abolire, no? Qualche anno fa. Beh, insomma, qualcuno che non ha ben chiara la gestione del territorio. Quindi la funzione dei consorsi di bonifica per il mondo agricolo e non solo, in caso di siccità, ha un suo valore? Altro che, ma non solamente per il mondo agricolo. Chi immagina che i consorsi di bonifica siano esclusivamente dei consorsi che danno acqua all'agricoltura ha evidentemente perso un pezzo importante della storia del nostro paese. Siamo in un territorio di bonifica, bonifica significa aver reso vivibili ed accettabili alcuni territori anche dalla nostra pianura che diversamente sarebbero... Per 1951... Quella è l'attività dei consorsi di bonifica. Qualche uno la potrebbe ascrivere sbagliando ad un tempo remoto e passato, ma non è così. I nostri territori sono ancora oggi, se fossero abbandonati a loro stessi, soggetti a quel tipo di problematicità. Quindi è perché ci sono i consorsi, perché ci sono l'idrovo, eccetera... Certo, la gestione dei canali, insomma, in qualche modo, la tenuta di tutto il sistema idrico primario e secondario sono l'elemento che consente al nostro territorio e alla nostra pianura di essere tuttora vivibile e fruibile. Lei mi diceva prima fuori onda che c'è stato, proprio in questa visione di un intervento strutturale a livello nazionale, c'è stata una messa a disposizione di un contributo pari a 107 milioni di euro, che anche dall'orecchio profano sembra poca cosa, se penso che quando si parlava di interventi strutturali, perché poi probabilmente anche mettere in sicurezza il territorio vuol dire garantire delle coltivazioni che non possano in qualche modo... cioè garantire tutta una serie di cose e si parlava di circa 2 miliardi di euro. Quindi, capire qual è la proporzione e questi soldi dove si possono fare, si può fare un intervento strutturale a rate o bisogna studiarlo e quindi fare un perimetro e iniziare a lavorare, fare un investimento grosso all'inizio e poi piccoli interventi? Queste sono le risorse messe disponibili quest'anno dal Ministero dell'Agricoltura per questo tipo di interventi. Ovvio, non sono in momenti difficili come quelli attuali, non sono soldi buoni, però non sono purtroppo sufficienti e soprattutto sono... Che a livello nazionale parliamo, non che a livello. Certo, certo. E comunque non sono sufficienti per in qualche modo andare in quella direzione di cui si diceva prima. Lei faceva riferimento alla necessità di intervenire come spesso succede nel nostro paese ex post, cioè a fronte di alluvioni piuttosto che di disastri conclamati. Se noi semplicemente oggi calcolassimo il danno delle nostre imprese agricole esclusivamente di questo settore, senza pensare agli altri settori, no, quello del turismo, piuttosto che ad altri settori produttivi che stanno già soffrendo oggi di questi periodi di siccità, capiamo che i 107 milioni non sono nulla rispetto ai danni e alle perdite che già oggi il nostro, come dire, il nostro sistema produttivo sta subendo. Quanti danni, quante perdite fino adesso e avete ovviamente sulla base di questa situazione meteorologica fatto un'analisi di quali sono le culture più in sofferenza. Prima lei faceva un accenno molto chiaro all'allevamento perché il foraggio delle bestie dipende dal fatto che ci sia, ma non solo, ma anche gli animali bevono molto e hanno bisogno anche di essere rinfrescati e quindi anche in questo serve l'acqua. In sofferenza con queste temperature, come dire, assolutamente africane non vanno in stress solamente le culture, anzi anche gli allevamenti. I danni sono già stati calcolati ad oggi intorno al miliardo di euro per l'agricoltura in generale, rispetto alle coltivazioni che oggi sono in sofferenza. Gli allevamenti, i nostri allevamenti, stanno oggi producendo circa il 20% in meno della produzione media loro. Per far capire al consumatore che magari diceva, beh, non mangerò le bistecche, eccetera, però questi sono danni, per esempio c'è un allarme, non potremmo produrre il grana padano, quindi a pioggia, a cascata, tutto questo si riverbera sulla filiera. Ma sì, in generale sul nostro settore economico i dati credo che siano noti, insomma, identificano il settore agricolo e soprattutto l'agricoltura del nord come uno dei pochi settori che in qualche modo contribuisce positivamente alla crescita del nostro PIL. Quindi la notizia che il PIL è in ripartenza a nord-est è gran parte in merito del settore agroalimentare. Il settore agroalimentare è sicuramente uno dei settori che cresce di più rispetto agli altri settori. Che cosa dicevamo poco fa? Dicevamo che se, come dire, rispetto a questa ipotetica, rispetto a questa crescita, il danno che stiamo oggi subendo non è semplicemente delle imprese agricole, ma è di tutto il settore agroalimentare che in qualche modo va in sofferenza. Se produciamo meno grana padano, per citare il prodotto che ha indicato lei, è chiaro che non vanno in sofferenza solo le imprese, ma in generale tutti i caseifici e tutto ciò che è l'indotto intorno a quel settore lì. E anche l'export. E ovviamente anche l'export. Ciò che è un dato che credo sia conosciuto è che il settore agricolo, pur rappresentando una piccola percentuale, in realtà il sistema agroalimentare arriva al 18% del nostro PIL. Diventa un volano. Assolutamente un volano su cui dobbiamo di nuovo concentrare l'attenzione della politica e collettiva. Lei prima faceva riferimento alle azioni che sono state messe in campo dai singoli agricoltori, cioè in maniera del tutto privata, di cui voi siete anche una sorta di stimolo, perché l'associazione di categoria cerca anche di trovare delle soluzioni a breve termine, pur lavorando con le istituzioni per soluzioni strutturali. Lei parlava di nuove tecnologie che molti si stanno attrezzando, sono ancora troppo pochi? Cioè tra gli associati c'è una certa ritrosia che magari è dettata dal costo di queste tecnologie? Le nostre imprese hanno assolutamente una vocazione imprenditoriale. È chiaro che una scelta imprenditoriale come quella a cui facevo riferimento io richiede investimenti, richiede risorse, risorse che si ottengono in qualche modo da una maggior disponibilità di risorse economiche e quindi non possiamo ascrivere questo tipo di iniziative a delle iniziative che possono essere in qualche modo generalizzate. che devono assolutamente essere valutate all'interno ciascuno della propria realtà di impresa. E nel dialogo con le istituzioni, parlo nel dialogo con il Ministero dell'Agricoltura, c'è un... è proporre da parte vostra, non so, degli sgavi fiscali, degli incentivi, dei contributi a riscatto, sa, tutta una serie di elementi che potrebbero essere da stimolo. La richiesta di riconoscimento della calamità naturale è già stata inoltrata. Insomma, siamo in qualche modo in attesa che venga valutato anche questo tipo di situazione, però è sempre il ragionamento di cui dicevamo prima. Non possiamo pensare di intervenire con delle risorse che in qualche modo tamponino o ristorino di quelli che sono stati i danni che ci sono stati più. Sì, perché appunto, diciamo, la dichiarazione di uno stato di calamità naturale significa che il governo, la regione, insomma, chi per esso, stabilisce un tot a, diciamo, a conforto di quello che si è perso, però, sì, è una specie di obolo, ma a fine a se stesso. Il problema è proprio di cercare di finalizzare meglio le poche risorse disponibili. Oggi immaginare, no, che quelle risorse possono essere investite in maniera preventiva nel cercare di razionare, per tornare al problema che abbiamo, la nostra rete idrica è, come dire, sicuramente molto più conveniente in termini di investimento che non rincorrere successivamente a riparare i danni. Insomma, è un po' il problema di sempre. Però quello che lei sta dicendo sembra un po' la scoperta dell'acqua calda, no? È tutto molto ovvio. Quali sono, perché non si fa, perché non si inizia da qualche parte? È solo l'Italia che ha questo approccio o anche gli altri paesi si trovano per una serie di motivi a procrastinare? No, per carità, non sono io il decisore politico, quindi sono decisioni che devono essere prese assolutamente all'interno di una programmazione degli investimenti nazionali, di cui noi in questo caso, come dire, potremmo essere fautori, ma le decisioni non sono certamente in capo. Certo, però potete essere dei suggeritori di soluzioni. Così come assolutamente abbiamo fatto, anche rispetto a questa ennesima situazione. Citavamo prima le richieste dei consorsi di bonifica, sono assolutamente accompagnati dalle pressioni delle organizzazioni sindacali. Torniamo subito dopo la pubblicità, ancora con il direttore della Coldiretti di Padova, Giovanni Roncalli, e continuiamo a parlare di questa emergenza siccità nella speranza che ci possa essere prima o poi un intervento strutturale che trasformi in quotidiano quello che continua ad essere qualcosa di straordinario. Tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio, parliamo dell'emergenza siccità che sta creando un pochi problemi all'agricoltura e agli allevamenti del Veneto. Qui con me Giovanni Roncalli, direttore di Coldiretti di Padova. Una situazione meteorologica che ormai abbiamo capito d'estate o d'inverno è diventata molto poco prevedibile, quindi ci sono andate di caldo, piove poco, quindi un andamento altalenante e si dice che l'agricoltura segue i ritmi della natura e quindi l'agricoltura deve pensare, deve organizzarsi per seguire questi ritmi capricciosi della natura. Ci parlava di intervento strutturale necessario per creare delle forme di deposito dell'acqua, un riassetto dell'assetto idrogeologico per evitare le dispersioni, le imprese si stanno attrezzando con tecniche sempre più avanzate di irrigazione, che siano meno dispersive e più puntuali. parlava anche di nuove culture. State, da un punto di vista agronomico, studiando, non lo so, delle tipologie di mais, in qualche modo che abbiano meno bisogno d'acqua, non lo so, oppure la possibilità di una coltivazione dentro delle serre con un sistema, non lo so, che cosa state pensando? È chiaro che l'agricoltura è una domanda assolutamente banale, anzi l'agricoltura è uno dei settori più innovativi, negli ultimi vent'anni ha fatto passi da gigante proprio in termini di capacità di interpretare anche in maniera diversa il proprio ruolo, che non è solamente quello di produrre cibo, ma in generale di mettere a disposizione della coltività sempre di più servizi importanti. È chiaro che la ricerca prosegue all'interno di quelle che sono le nostre specificità agroalimentari. Per cui prosegue la sperimentazione sia in campo tecnico, cioè legato a quelle che sono le tecniche che possono consentire migliori produzioni con minore utilizzo e dispendio di risorse, così come quelle di varietali che in qualche modo possano valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio agroalimentare. Una precisazione però rispetto a questi capricci della natura, lei li ha definiti così. Se sono tali. Secondo me è arrivato il momento in cui dobbiamo immaginare a questi cambiamenti climatici come un vero e proprio problema collettivo. Non è più un fatto episodico il fatto che si ripetono sempre più frequentemente queste che vengono definite bombe d'acqua. Insomma, sono situazioni che si ripetono sempre più frequentemente e che sono evidentemente frutto di un cambiamento climatico che è oramai conclamato. Servono su tutti questi tipi di situazioni che mettono a repentaglio non solo l'agricoltura, ma in generale incidono negativamente su tutta la collettività, pensiamo ai disastri alluvionali, così come tanti altri, azioni serie di contrasto e di lettura di questi fenomeni in chiave moderna. Si legge proprio in questi giorni che sindaci piuttosto che presidenti di regione fanno delle disposizioni, delle norme proprio di razionamento dell'acqua. Un tempo quando appunto c'era siccità per, si diceva, non innaffiate giardino. Ancora oggi è così. Questi sono gli interventi tampone, sono gli interventi efficaci. E come può, perché lei parlava che non è solo un problema di agricoltura, l'ha sottolineato varie volte, l'agricoltura poi non è altro che lo specchio della vita di tutti noi. Cioè l'acqua serve a tutti noi, perché chiunque mangia un cespo di insalata, oppure l'acqua è vita, lo ripetiamo spesso. Che cosa può fare il cittadino, anche quello che vive in città, per partecipare ad un piano di razionalizzazione, di ottimizzazione, di non spreco? Purtroppo in termini quantitativi credo che il privato cittadino possa sinceramente fare ben poco. Ciò che è necessario fare anche all'interno di quelle che sono le reti pubbliche dei nostri equedotti è, come si diceva prima, un intervento strutturale per cercare di contenere le perdite, perché insomma al di sotto delle nostre strade... Apre poco il rubinetto, poi poi poco che lo apre perde tutto a questo punto. Non sono banalità, è chiaro che le raccomandazioni di sempre nel cercare anche di utilizzare meno acqua, anche semplicemente rispetto a come ci si fa la barba al mattino, dico una banalità, sono importantissime perché tanti piccoli bicchieri d'acqua messi assieme fanno grandi quantitativi, però non può essere questo un problema su cui carichiamo la responsabilità di questa situazione. Il cittadino virtuoso che spreca meno acqua, utilizza meno acqua, di fatto può ben poco se poi dopo i nostri equedotti, come è stato verificato, perdono il 40% dell'acqua che ci passa nel mezzo. Insomma, serve un'azione che non può essere lasciata semplicemente o in maniera virtuosa alle iniziative del cittadino. Benvengano quelle, assolutamente importanti, però bisogna affrontare il problema della gestione delle risorse idriche in maniera diversa. Maria, adesso io dico una idiozia. L'acqua piovana, l'acqua dei fiumi, però sono circondati dal mare. Utilizzare l'acqua del mare, dessalinizzandola, depurandola, trasferendola... Sì, è un problema di risorse e di costi. Per poter arrivare all'utilizzo di quell'acqua servono risorse e servono costi, si sopporta costi che renderebbero anti-economiche parecchie nelle nostre attività produttive. Per cui lo sforzo che dobbiamo fare è nel gestire attentamente le risorse idriche che abbiamo durante l'anno, durante l'inverno, durante i periodi piovosi. Nel nostro paese, come dire, fortunatamente ancora oggi non è un paese che soffre una carenza complessiva di risorse idriche. Ne abbiamo in abbondanza, dobbiamo semplicemente immagazzinarle nel periodo in cui ce n'è disponibilità per utilizzarle in maniera virtuosa quando ce n'è di meno. Torno a dire, non è solo un problema di acqua che scorre nei fiumi, è un problema di acqua che deve servire intelligentemente di irrigare tutto il territorio. Perché un territorio non irrigato e non produttivo dal punto di vista agricola sarebbe un deserto. Questo è un fenomeno che dobbiamo assolutamente scongiurare. Parlando proprio del territorio padovano, l'Alta Padovana è il territorio di risorgive, non a caso ci sono questi floridi allevamenti, proprio perché il foraggio è particolarmente rigoglioso, magari in questo periodo no. Com'è la situazione di queste falde, di queste risorgive? Tutto dipende dal mancato approvvigionamento per lo scioglimento della neve che non c'è? Abbiamo territori sicuramente che soffrono di meno, quello delle risorgive, come dire, al momento, per carità, non è avulso da quel problema, ma certamente sta soffrendo meno rispetto ad altri territori. Purtroppo quella zona lì è una zona che comunque è particolarmente limitata, proprio in termini di ettari e di superficie, rispetto alla complessità della pianura padana. Quindi, come dire, è una piccola, non dico isola felice, però isola che soffre meno rispetto ad altre. Ultima cosa, si è parlato molto da inquinamento delle sostanze, i FAS, no? È una parte del padovano, è interessato. Il ragionamento è il medesimo. Affrocciamo questo problema sempre, come dire, con l'idea dell'emergenza e del rincorrere ex post. Sappiamo benissimo che ci sono alcune situazioni produttive che non possono, in qualche modo, mettere a rischio non solamente altre attività produttive, ma addirittura la vita. Ecco, allo stato attuale, che tipo di monitoraggi avete? Qual è la fotografia del territorio padovano? È necessario assolutamente approfondire anche rispetto a queste situazioni, perché abbiamo esempi sparsi per il Nord Italia che, in qualche modo, ci lasciano preoccupati rispetto a questa situazione. Perché il rischio, ripeto, non è semplicemente quello di precludere o limitare le attività produttive agricole. C'è a rischio tutta una situazione di cittadinanza che deve essere monitorata con attenzione. Oggi non esiste e non può esistere un insediamento produttivo che, in qualche modo, produce a discapito della salute o a discapito, come dire, del benessere collettivo. Lei sottolinea proprio questo stretto legame tra agricoltura, interesse e collettivo, che poi il settore primario lo dice la parola stessa, i nostri nomi ne erano... Quindi non lo sottolineo io, ma lo dice la parola. Ecco, ma forse abbiamo dimenticato questo elemento del legame molto forte tra uomo e terra. È importante riscoprirlo, secondo lei? Beh, è assolutamente importante riscoprirlo, anche perché, a di là del fatto dell'essere il settore da cui tutti noi approvvigioniamo gli alimenti per la nostra esistenza, è sempre più legato la positività dell'agricoltura alla positività di un territorio che oggi è il patrimonio di cui disponiamo e che dobbiamo certamente, come dire, curare con attenzione. Risposta secca. Se dovesse piovere abbondantemente nei prossimi giorni, le culture si salvano? Quel che è perso è ormai compromesso? Purtroppo quello che è perso è perso, nel senso che certo non ci sono ancora, potrebbero esserci situazioni assolutamente recuperabili, però la situazione non piove, si va verso, come dire, la perdita pressoché totale del prodotto, piove, se ne salva una parte. Oppure se ha una vendemmia anticipata. Beh, la vendemmia è ormai quasi scontata, ecco. Io ringrazio Giovanni Roncalli, direttore dei col diretti Padova. Torniamo subito dopo la pubblicità. Altri ospiti e altri argomenti. Grazie. Grazie a voi.